Mobilitati per il no referendum anche i 5 stelle. Votare sì al referendum significa dar vita ad una repubblica bancaria dove i provvedimenti saranno veloci ma a favore del lobby. Noi diciamo di votare no perché darebbe inizio una vera stagione di riforme con al centro il reddito di cittadinanza e gli interessi dei cittadini.